Il mio figlio di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore e il Signore li diede nelle mani dei filistei per 40 anni. C'era un uomo di Sorea della famiglia di Daniti di nome Emanoa. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e gli disse Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro. Poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla testa del quale non passerà rasoio perché il bambino sarà un nazireo consacrato a Dio dal seno di sua madre e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei filistei. Amen Amen Giudici capitolo 16 versetto 19 e 20 Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia Chiamò un uomo e gli fece tagliare le sette trecce della testa di Sansone Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò Allora lei gli disse Sansone, i filistei ti sono addosso Egli svegliatosi dal sonno disse Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò Ma non sapeva che il Signore si era ritratto da lui Ritirato da lui Amen Amen Hallelujah Pangebi di vici parada mai Neiia di pushta koda Tera adi hai Pellei hai to Pangebi hai tak Israeleia ne Yehova di nigao vici Fier badi giti Ate Yehova ne un'anun Chalia varia tori Filistia de hat saanp dita Daan de tabar vici O ik jana manuana Me sarada si O di patni banchi si Ate o koi balna jani Yehova di tu te ne Ustini nio darshan de kia kia Vek tu banch hai Ate jandhi nai Par tu gherbni hovei ghe Te putter jadhi ghi So on'te han rakhi Ate daakhras Ya kooi amal wali čiiz Na pimi Ate ashuddh Vasta na khami Kiyo? Jho vek tu gherbni hovei ghe Te putter jadhi ghi Ode sirtte Uttte Ustera kadhe na lakkega Isle jho Om unda gherb To hii parmishwara da Nazir hovei gha O falistia de hat Toh israeleia da Bichao karne lakkega Amin Sola dhi Unni or via Belkhe stara Toh bhi pardha Stara unni via It pardha mein Jad lila nai dikha Johun Unnei Apeni manda Sara pete Khol dita hai Ta usne Flistia de Sardarana Aak liya Jho Ait ki diwari Chadhau Kiyo ke Jho kuj Ode man Wissi Sab Unnei Meri Ake Par Purgat Kita hai So Flistia Dhe sardar Ode khol Ae Ate Rokkada Aapne Hath Bich Lai Ae Ta Usne Aapne Ghoďyya Utte Unnu Sula Cha Leya Ate Ek Mnuk Sard Ke Saat Lata Jho Ode Sir Utte San Munas Utte Ate Unnu Shedan Lagi Ate Oda Zor Us Kholo Janda Rhea Ta O Bholi He Samson Falistia Tere Utte Chad Ae Ode Nimdat To Jha Kya Ate Ate Akhe Vanggu Me Ate Ape Par Ode Khabar Naisi Jho Yehova Usko Lo Ate Ho Gya Hallelujah Ate chan Ate Ajmah Jynnah Vachan Sun Va He tras Me Jinnah Dhe Jinnah Vachan Ye per farvi di Gesù dei nome di Vich, Gesù dei Samratti, Nome di Vich. Amin! D'arrivi cari e parvishvarti! E questo effettivamente è che completà. Solo un giurtno del milo, Quindi ho scandito di vita a cui perdere la vita di Gesù di Dua, ho fatto che hai a fare un po' di cose che hanno ragazzi, studenti non sono mai di farlo non sono mai non sono mai non sono mai non sono mai e non sono mai che non sono mai è quello che ha detto Alleluia 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 Sampson Abbiamo letto dalla Bibbia Per quanto riguarda Samsoni un anno di Dio è venuto dalla mamma di Sansone perché la sua mamma non aveva figli perché la sua mamma non aveva figli che tu a casa di casa che tu a casa di una madre dice alla mamma di Sansone che tu partori dai con ci per un figlio e quel bambino sarà profeta di Dio fin dalla sua nascita e quella persona libera gli israeliti dalle mani dei flesterei e l'angelo di Dio aveva detto alla mamma di Sansone che tu non devi bere il vino e la signora ha ricevuto la parola di Dio quello che aveva detto l'angelo del Signore è stato portato a termine la donna ha concepito il figlio ha perdurito il figlio ha chiamato il suo figlio Sansone e è cresciuto il suo figlio così come cresceva diventava un po' forte ma il Signore ha cominciato a usarlo per gli israeliti i filisti venivano e tribulavano gli israeliti e la bambino di Sansone è stato portato a termine e la bambino ha scritto su Sansone che prendeva lo spirito di portza e quindi il figlio è stato portato a termine e quando il figlio è stato portato a termine e quando il figlio è stato portato a termine il figlio è stato portato a termine e il figlio è stato portato a termine e il figlio è stato portato a termine e più avanti abbiamo visto che quando più avanti abbiamo letto che il Signore aveva detto che sul suo figlio la sua testa non doveva essere rasata e non devono essere tagliate i suoi cappelli le trecce lecchino di Sansone ha rivelato il suo segreto a Dalila perchè con Dalila era accaduto nel peccato e aveva detto alla signora tutto il suo segreto che la sua forza è nei suoi cappelli come abbiamo letto dalla parola di Dio quando l'Ella aveva fatto addormentare Sansone sulle sue ginocchia e dal lì l'ha tagliato le trecce di Sansone e aveva informato i figli stai che quando io avrò finito di tagliare i capelli voi dovete venire e prendere il Sansone prima di questo moltissime volte i principi di Filiste avevano provato ad attaccare Sansone perchè l'ospito di Dio era su Sansone l'unzione del Signore era su Sansone i Filistei non riuscivano a prendere e catturare Sansone ma cosa è successo questa volta quando sono venuti i Filistei e le trecce di Sansone sono state tagliate e Dalila ha informato Sansone che sono venuti i Filistei addosso a te e nella Bibbia c'è scritto Sansone si è svegliato come prima si è preparato con forza per andare a combattere contro i Filistei ma nella Bibbia c'è scritto il Signore si era ritirato da Sansone il Signore si era ritirato da Sansone li hanno legato di questo rano e li portarono via li tirano fuori gli occhi li fanno ballare Alleluia è stato preso in giro qua ci sono fatti capendo la parola di oggi Dite che sono pronto Signore sono pronto per ricevere la parola di Dio Alleluia 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 Bai batti l'icchia cittai Ode sarte ustra caglia Ode vall cattigai Te Parmeshwar da Atma Parmeshwar Samson è addoglia Nella Bibbia c'è scritto Quando sono state tagliate le trecce a Sansone Signore si è ritirato da Sansone Dite che te Parmeshwar addogli E quando Signore si è ritirato Samson di life Nella vita di Sansone è venuta la perdita e la sofferenza Alleluia Alleluia Chi odi la chai Haar di aite Shram indi givi La perdita e la vergogna Church agita Appne barcat Appne chet Appne gloria Appne mahamah Appne abhishek Appne abhishek Voi per mantenere la vostra gloria Per mantenere la vostra unzione Per mantenere la vostra forza Avete bisogno di avere la vostra unzione Voi dovete proteggere la vostra unzione Dovete tenerlo bene con voi Alleluia 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 Quando voi tenete bene l'unzione Quando lo proteggete giorno dopo giorno Voi crescete nelle vostre livelli Quando voi proteggete l'unzione di Dio Voi camminate scale dopo scale E salite sopra Ma quando invece non pensiamo alla unzione Quando non pensiamo più alla unzione In quel momento che viene la perdita e la vergogna Alleluia Alleluia Finché Samson aveva protetto l'unzione Non cento ma anche mille persone Non hanno potuto sconfiggere Samson Ma quando l'unzione è finito L'unzione è andato Abba Samson è bastato solo 3-4 persone E' diventato da straordinario a ordinario L'unzione vi rende straordinario 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 Amen Amen Hallelujah Alleluia! Ci sono persone, persone cristiane, che in Dele, in cui si vengono a farlo, 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 alleluia! Quando una persona è diventata cristiana, ha fatto il pentimento, ha fatto il battesimo, sta venendo tutte le domeniche in chiesa e sta pregando giorno dopo giorno, la sua unzione cresce giorno dopo giorno, la sua unzione cresce giorno dopo giorno, cresce l'unzione vuol dire che la gloria cresce su di Lui giorno dopo giorno, le testimonianze sue crescono giorno dopo giorno, le sue vincite crescono giorno dopo giorno, Amen! Alleluia! Ci sono tutti i nostri anointing, che non è caro, non ci preoccupiamo, quando non proteggiamo l'unzione, e non ci preoccupiamo, vengono le perdite e vengono le vergogne, oggi porteremo l'unzione, alleluia! 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 L'angio del Signore aveva detto alla mamma di Sansone, che questo figlio, fin dalla sua nascita, sarà il profeta di Dio! Nazzir, come studiare in Biblia, come studiare, come Nazzir, come Nazzir, come Nazzir, come Nazzir, non vuol dire, non vuol dire scelto, ma vuol dire del Signore! Alleluia! 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 E gli studi della Bibbia dimostrano che Nazzir, il Dio, cioè Sansone, era del Signore, e il Signore gli aveva preso da parte, preso da parte, e quel Nazir, doveva seguire alcuni comandamenti, Alleluia! 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 Un Nazir, non può toccare il corpo morto di una persona, un morto, non può bere il vino, Alleluia! Se noi leggiamo la Bibbia, ci sono molti comandamenti che sono da seguire, e quelli comandamenti che vengono seguiti da questa persona, quella persona è un Nazireo di Dio, cioè il Sansone! Alleluia! 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 Nel Nuovo Testamento, il Signore ci ha scelto, uno a uno con il suo sangue. Alleluia! 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 e quando loro avevano fatto qualcosa che non andava bene dovevano presentare un piccione per fare il sacrificio mentre nel Nuovo Testamento noi siamo scelti uno a uno dal Signore e quindi quel comandamento dobbiamo seguirli uno a uno amén 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 seguire il comandamento del Signore significa voi siete seri per il nazireo di Dio voi siete attenti voi proteggete se voi siete attenti alla vostra unzione la perdita non può venire su di voi la vergogna non può venire su di voi amén amén ricordatevi i profeti che sono stati scelti loro non hanno dovuto subire la vergogna loro non hanno dovuto subire la perdita il Signore aveva scelto i pallici per essere vittoriosi hallelujah giorno dopo giorno dobbiamo fare attenzione alla unzione cosa succede nella vita quotidiana vuoi essere che voi siete cristiani da un anno voi avete preso molte testimonianze ma dopo un anno è successo qualcosa che comincia a cambiare la vostra dichiarazione che comincia a cambiare la vostra dichiarazione vi sto dicendo che senza le prove non c'è una prova da passare se dopo un anno c'è stato qualcosa nella vostra vita quello è il momento giusto per fare attenzione quello è il momento giusto per proteggere la vostra unzione hallelujah hallelujah che quando succede che se dopo un anno voi avete pregato avete fatto digiuni e avete 70 anni a casa del Signore poi quando voi andate su un altro livello prima dovrebbero avvenire delle prove e questo succede nella vita di ogni credente e se voi capite questo e se voi proteggete la vostra unzione se state attenti e la vostra unzione crescerà la vostra unzione crescerà vi state attenti tutti noi voi noi siamo tutti noi 아� Gonghi vi state attenti tutti noi abbiamo si voi non siete attenti se non siete attenti in quel preciso momento la vostra unzione è la vostre unzione entrata la vostra unzione di cui se non siete attenti in quel preciso momento non siamo s Thirdo. La Mora. La Mora. La Mora. Ora ma posso dire che il loro umano bisogni l'Evo, allora che sono in un modo, E la parola di Dio che voi avete ricevuto oggi non tornerete dietro ma andrete avanti giorno dopo giorno e questo crescerà su di voi quale dovete fare? dobbiamo fare attenzione all'unzione stare attenti all'unzione proteggere l'unzione alleluia io ho parlato in generale di un anno ma se dovessimo parlare di una settimana molte persone oggi hanno ricevuto il Signore domani domani lunedì martedì o mercoledì quello che voi farete quello che voi direte da lì dipenderà se voi siete attenti alla vostra unzione da lì dipenderà una bottiglia immaginatevi che siete una bottiglia 10 ml tu si parcheggiate voi avete preso l'unzione 10 ml se voi siete stati attenti tutta la settimana voi verrete la prossima settimana sud o sono vi carache e riceverete la giochiani e arrivere ammig e questo ha di appartIT è chuva un habito e questo ha di natura e questo ha di natura è chuva un caratterno ammig se invece voi avete ricevuto l'unzione e voi fate le cose contrarie lunedì, martedì, mercoledì quello andrà a diminuire lunedì 9, martedì 8, mercoledì 7 arriverete fino a domenica che sarà zero voi avrete di nuovo la domenica voi ricevete ancora l'unzione di Dio di ECML hallelujah questo significa che voi non siete ritirati dal Signore questo non vuol dire che voi vi siete ritirati dal Signore voi siete nel Cristo ma quello che voi dovevate fare non lo state facendo la crescita che dovevate vedere non lo vedete dara un po' lo vedrete 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 hallelujah 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 amen amen che carne ha bisogno di noi? Samurai ma se di che carne ha? dobbiamo fare attenzione all'unzione dobbiamo fare attenzione all'unzione quando Samson proteggeva la sua unzione non ha ricevuto nessuna perdita nessuna vergogna hallelujah dara un po' lo vedete e non ha peccato si è pentito dal cuore ha pregato davanti al Signore ha pregato davanti al Signore e ha detto al Signore di dargli la sua gloria e di non ritirare da Lui Spirito Santo Davide sapeva che tutta la sua prosperità tutta la sua vita vittoriosa dipendeva dal Signore hallelujah hallelujah davide aveva fatto un aveva errato si è pentito ricordatevi una cosa i credenti si ricordano del peccato che aveva commesso Davide ma non si ricordano questo che lui dopo che si è rappettito non l'ha più ripetuto lo stesso errore per tutta la sua vita non ha più fatto lo stesso errore hallelujah 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 maaf karno ha le parmishwora il Signore Signore che vi perdona maaf karno ha maaf karno ha ma chiesa se voi continuate sbagliare ogni giorno Signore vi perdonerà ma ricordatevi l'exempio che vi è stato fatto del 10 ml che diminuirà giorno dopo giorno vi verrà caricato ogni domenica 10 ml ma continuare a scaricare hallelujah 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 e tu siete con la massa abisheca dell'ipo dell'ipo e vedrete che la lezione è stata sopra overflow che rega overflow che rega preparate che le cose e raco soco e corruco rindre che ne che terese che e che re che bebe raba bababa raba sabayababa raco noco toro soco e che re che bebe rindra bababa bababa rabo soco e corruco ora ora faccio ora 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 penserà passione Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti!